È stato approvato oggi il piano per il 2016 sull'invecchiamento attivo. Quali sono le principali e le più concrete linee di intervento e soprattutto i beneficiari? Beh, noi questa delibera di oggi si inserisce nella programmazione triennale che noi abbiamo fatto che fa parte di una politica proprio regionale sull'anziano. L'invecchiamento attivo che abbiamo portato oggi in giunta è un piano per il 2016 che prevede una trasversalità di interventi che non riguardano quindi solo l'assessorato salute e sociale ma che riguardano la cultura, lo sport, la formazione. Ed è, contiene una serie di azioni e di linee su una serie di attività che partono appunto partono dalla promozione della salute, dalla prevenzione, dall'attività fisica, le questioni sanitarie però guardano anche a come migliorare l'inserimento, come mantenere l'inserimento nella società attiva delle persone che anche superano una certa età. Come? Favorendo la partecipazione ad eventi culturali, anche favorendo formazione per esempio sulle basi dell'informatica perché oggi tutti utilizzano il computer e quindi un intervento a 360 gradi che consenta alle persone anziane che stanno bene e di continuare a stare bene partecipando attivamente alla società e per coloro che hanno problemi di salute invece interventi soprattutto consentendo di stare il più possibile a casa e quindi favorendo l'assistenza domiciliare, l'assistenza a casa ed evitando il più possibile l'ospedalizzazione.